La proposizione di rilevanza di Miller, io ho sempre messo Modigliani Miller perché lo vedremo nel capitolo dedicato agli strumenti di debito, l'ho vattato mondo di Modigliani Miller, comunque dato che gli investitori non hanno bisogno di dividendi per convertire le azioni in contante, essi non sono disposti a pagare prezzi più elevati per aziende che distribuiscono dividendi maggiori. In altre parole la politica di dividendi non incide sul valore dell'azienda. E qui dobbiamo aggiungere in una ottica di massimizzazione del valore dell'azienda. Perché? Perché non dobbiamo mai dimenticare sostanzialmente che noi siamo all'interno di questo nostro schema, che noi dobbiamo massimizzare il valore del business. Come? Attraverso la politica dei dividendi. Risposta di Miller, che è una delle tre scuole di pensiero, è questa. Dato che gli investitori non hanno bisogno di dividendi per convertire le azioni in contante, essi non sono disposti a pagare prezzi più elevati per aziende che distribuiscono dividendi maggiori. In altre parole, la politica dei dividendi non incide sul valore dell'azienda in un'ottica di massimizzazione del valore della stessa. Quindi questa frase che io ho aggiunto adesso è per ricordarvi che stiamo dando una risposta a quello che era il nostro obiettivo principale. Cioè di andare a decidere come la politica dei dividendi va a impattare sulla politica di massimizzazione del valore dell'azienda, che è lo scopo di questo corso e lo scopo della finanza aziendale. Allora, qui c'è nella proposizione di rilevanza, c'è un esempio di tipo numerico, che io ho lasciato perché si presuppone che ve lo facessi, ma ripeto, il concetto è quello che è spiegato secondo me in maniera molto chiara da questo grafico, quindi non c'è bisogno di andare. E invece vediamo la scuola di pensiero che vede il dividendo come un aumento del valore dell'impresa. Allora, i dividendi aumentano il valore dell'impresa, laddove ci sono delle imperfezioni del mercato e c'è un effetto sulla clientela. Abbiamo visto che esistono dei clienti che sono naturalmente incline ai dividendi ad alta remunerazione, ma ovviamente non dovete pensare che se voi avete un'impresa che non distribuisce dividendi, il fatto domani di iniziare a distribuire dei dividendi elevati potrebbe non portarvi nessun beneficio, perché già sul mercato c'è un'ampia schiera di aziende che distribuiscono dividendi e quindi chi è interessato a questo genere di offerta ha già a disposizione una panoplia di possibilità che potrebbe essere già di per sé interessante. Quindi non è che la mossa furba di dire non distribuisco i dividendi, allora li distribuisco così vengono tutti da me. Il nonno Joe già sul mercato ha trovato la sua San Paolo da comprare. Ovviamente se tutti comprano un'azione perché ha un dividendo elevato, ci può essere un incremento di domanda, un costante incremento di domanda di quelle azioni sul mercato che fa sì ovviamente che quella azione rimanga sempre ben considerata in termini di prezzo. Questa già è la prima ragione per cui i dividendi potrebbero aumentare il valore di un'azienda, perché a qualcuno piace caldo o a qualcuno piace freddo e quindi amano i dividendi e vengono i dividendi. I segnali forniti ai dividendi, l'aumento dei dividendi costituisce una buona notizia circa i flussi di cassa e i guadagni. Perché? Perché abbiamo visto che una volta che i dividendi entrano in azione, dopo non smettono più. Quindi voglio dire, a maggior ragione, se io aumento un dividendo, abbiamo visto che ci vogliono due o tre esercizi prima di aumentare i dividendi, diciamo che da quel momento lì in poi sono costretto a mantenere fissi quegli aumenti. Quindi un aumento dei dividendi costituisce una buona notizia, perché il management vuol dire che sta segnalando al mercato che è fiducioso, che in futuro ci saranno di nuovo le condizioni per mantenere quei dividendi elevati. Viceversa, il caldo dei dividendi è una brutta notizia. Il management taglia i dividendi è l'unica cosa che non dovrebbe fare, e l'ultima cosa che dovrebbe fare se la fa vuol dire che siamo messi male. Mayday, mayday, stiamo affondando, stiamo precipitando, mandate un elicottero. Poiché una politica di alta remunerazione dei dividendi risulta dispendiosa per un'azienda che non dispone del flusso di cassa per supportarla, l'aumento dei dividendi segnale il buon andamento dell'impresa e la fiducia dei suoi manager nei flussi futuri di cassa. È evidente, io aumento la componente di reddito che cedo ai prestatori di capitale di rischio, perché sono convinto che in futuro questo si manterrà costante. Quindi è quasi una tautologia. Gli aumenti di dividendi danneggiano gli obbligazionisti a favore degli azionisti. Ovviamente se voi siete un azionista, adesso senza voler augurare del male a nessuno, perché non si fa per cose più gravi figurarsi per i soldi, è evidente che se io sono un azionista, qualsiasi azione che il management faccia a favore degli obbligazionisti lo vedo di cattivo occhio. Perché? Perché voi sapete che gli obbligazionisti vengono prima degli azionisti nel riparto in caso di liquidazione. e quindi sostanzialmente il caso viceversa si applica. Quindi qualsiasi cosa che il management fa a favore di un azionista piuttosto che di un obbligazionista fa felici la categoria degli azionisti, che è sostanzialmente opposta a quella degli obbligazionisti, perché in caso di riparto, in caso di fallimento della società, prima vengono gli obbligazionisti, poi vengono gli azionisti. L'azionista è, abbiamo visto, remunerato in maniera residuale rispetto a tutti gli altri. E quindi, siccome i dividendi sono la remunerazione degli azionisti, quando vengono pagati i dividendi, è grande festa, perché se i soldi vanno agli azionisti, non vanno agli obbligazionisti. Nel senso che in caso di fallimento, chi ha dato dato, chi ha avuto, avuto, io mi sono preso i dividendi, gli obbligazionisti faranno quello che vogliono. Quindi c'è un trasferimento, detto in maniera aulica, di ricchezza dalla società ai portatori di capitali di rischio. Queste sono le tre ragioni della corrente di pensiero che vede nei dividendi una cosa positiva per l'azienda. Quindi sono le tre cose che dobbiamo tenere in conto quando si parla dei dividendi. Poi c'è una corrente di pensiero che dice che i dividendi riducono il valore. Allora, quando noi pensiamo sostanzialmente a questa corrente di pensiero, è facile intuire quando è nata, come si è sviluppata, quando abbiamo visto il nostro grafico che ci mostra la tassazione dei dividendi. Nel senso che se io mi ostino a pagare dei dividendi e questi dividendi sono tassati al 90%, voi capite che il povero azionista non è molto per la quale di ricevere dei dividendi piuttosto che dei capital gain. Nel caso in cui, per esempio, i capital gain sono tassati il 26%, io pago il 90%, allora io ho azionista e mi dico scusa, cowboy, perché mi stai dando dei dividendi tassati il 90%? Perché a questo punto potresti mandare direttamente l'assegno all'agenzia delle entrate, fare bonifico all'agenzia delle entrate, così mi eviti anche il peso, il fardello ogni anno di fare la dichiarazione dei redditi. mandi i soldi direttamente alla Repubblica Italiana o all'IRS americano e abbiamo già risolto il problema. E ovviamente se voi contestualizzate quando e da chi e come e perché questa corrente di pensiero si è sviluppata, voi capite che in situazioni come questa, ovviamente questa corrente di pensiero ha assolutamente ragione, nel senso che i dividendi sono cattivi laddove sono tassati il 90%, penso che questo sia così un aspetto che difficilmente sia smentibile e difficilmente noi possiamo contrastarlo. Quindi quando noi ci chiediamo se i dividendi aumentano o diminuiscono il valore di un'impresa, dobbiamo chiederci anche quale politica fiscale sta considerando i dividendi. Le aziende possono convertire i dividendi in capital gain variando le politiche dei dividendi. Se i dividendi sono maggiormente tassati dei capital gain, gli investitori soggetti al pagamento delle imposte dovrebbero vedere di buon occhio una simile mossa e valutare più favorvolmente l'azienda. Ovviamente quando si parla di queste cose sembra sempre che ci sia uno scopo evasivo. In realtà, come disse una volta un noto segretario di Stato americano, non si può presupporre che benché sia a dovere di tutti pagare le tasse, che sia piacevole pagare le tasse. Quindi penso che sia normale che nei limiti dell'ordinamento, senza, diciamo, infrangere nessuna norma, il cittadino si preoccupi di pagare il meno tasse possibile. Cioè di pagarle, ma di pagarle il meno possibile. Non è che, ah, che bello, sì, ah, ho pagato il 90% sui dividendi, come mi sento bene, mi sento tonificato. Ah, 95, ah, ancora bello, sì, sì, ah. Fatemene ancora, 98%, ma sì, 90%. Diamo tutto all'IRS, diamo tutto all'Agenzia delle Entrate. Quindi diciamo che è normale e penso che sia anche abbastanza ragionevole. In tale contesto fiscale, il flusso di cassa totale trattenuto dall'impresa e o detenuto dagli azionisti risulta più elevato rispetto a quando vengono pagati i dividendi. Ovviamente il conto di quello che uno si guadagna o di quello che si perde fa sempre al netto dell'imposizione fiscale, no? Quando si deve decidere una manovra di questo genere. Quindi è giusto considerarla all'inizio.